Lo sapevate che Daniel Radcliffe, prima della lavorazione del film Kill Your Darlings, ha raccontato che il regista del film John Crocidas gli ha chiesto di evitare di depilare o sistemare in qualche modo la zona pubica. E questo perché il film in cui ha recitato l'attore è ambientato negli anni 40. E quindi, visto che Daniel avrebbe dovuto girare anche alcune scene di nudo, e all'epoca giustamente non c'era la buona abitudine di curare il boschetto, il regista gli chiese gentilmente di non radersi.